buongiorno buongiorno signori buongiorno eccoci eccoci a una delle nostre ultime lezioni di storia di questo di questo anno scolastico una lezione che però molto a mio parere molto interessante molto importante proprio perché ci permette di affacciarci alla conoscenza della civiltà romana voi come ovviamente come ovviamente sappiamo ci eravamo spostati dalla grecia dall'oriente di alessandro magno ai popoli italici alla dimensione etrusca e ora dobbiamo addentrarci in quelle che sono le vere e proprie origini della civiltà civiltà romana sono questi dei concetti dei momenti che per ogni per lo studio di ogni civiltà sono molto interessanti sono molto importanti anche perché come vi avevo già spiegato tutte le origini legate alle civiltà si fondono in una mescolanza meravigliosa tra leggenda e realtà tra mito e realtà tra fantasia e il vero propriamente storico che ci è tramandato dalle fonti e per la questione romana succede assolutamente una cosa di di questo genere e tenteremo di capire perché sia importante inserire degli elementi leggendari mitici e quant'altro collegati chiaramente a una dimensione religiosa superiore ma andiamo andiamo appunto per per gradi e andiamo per gradi partendo da una situazione prettamente storica poi la seconda parte della lezione la dedicheremo a una questione più legata alle alle origini mitiche come come vi dicevo e noi relativamente ai popoli italici avevamo già menzionato il popolo dei latini questa popolazione indoeuropea che nel secondo millennio avanti cristo ovviamente giunse nel territorio delle coste del lazio latini e lazio l'antico lazium in in lingua latina ovviamente la cui etimologia è legata al concetto del largo al concetto dell'ampio e abbiamo proprio questa popolazione che nella zona perspiciente vicina alla foce del tevere si instaura su delle colline si insedia scusate ho sbagliato a parlare si insedia su delle colline perché la pianura sottostante era paludosa e malsana quindi abbiamo già una dimensione di adattamento alle strutture del territorio no pensiamo già sentendo colline ci viene già chiaramente in mente la dimensione dei sette colli di loro ma di una sorta di situazione sopraelevata che vedete già inizia proprio dagli albori della stessa denominazione della della regione lazio un largo ampio che abbiamo ancora che abbiamo ancora oggi questa popolazione indoeuropea ve lo ricordo era una popolazione di pastori e di contadini quindi abbiamo l'agricoltura e l'allevamento come dimensione di sostentamento principale comune a tutti i popoli italici sostanzialmente e si coltivavano legumi poveri come l'orzo il farro legumi cereali scusatemi proprio basilari come così come l'allevamento era legato al greggio alle pecore pensiamo già anche all'etimologia no l'etimologia pecus ossia greggio e greggio di pecore è collegata al termine latino pecunia che vuol dire denaro in relazione al fatto che la ricchezza o comunque il benessere maggiore o minore era determinato dal più possesso di capi di bestiame da allevare da cui si traevano chiaramente oltre al sostentamento a livello di cibo tutta un'altra serie di suppellettili che contribuivano la sopravvivenza di questi di questi popoli primitivi lo avete proprio segnato è la parola latina pecunia doveva appunto da pecus che significa greggio tra tutti questi centri villaggi e nuclei abitativi di questa zona del lazio dobbiamo necessariamente nominare fin da ora alba longa ossia una confederazione o comunque un nucleo abitativo di insediamento che è destinato a sancire le sorti di fondazione di roma era uno dei centri proprio più importanti perché chiaramente nei secoli lo sviluppo di una zona come vedremo commercialmente strategicamente molto molto positiva molto favorevole legata ovviamente al tevere al fiume ci mancherebbe diventerà uno dei centri più più importanti e divenne anche una situazione a cui faceva capo già nel settimo secolo una federazione latina di sette villaggi di cui alba longa era a capo localizzati tutti sui sette colli quindi vedete che già prima del nome roma abbiamo una strutturazione a sette torna sempre questo numero sette nella dimensione se non altro primordiale della della storia romana questa confederazione questa federazione di villaggi latini ossia di stirpe di genti di origine latina quindi abitatrici del lazio si confederarono in una lega che possiamo definire settimonzio proprio perché questa lega darà poi vita alla vera e propria città di roma quindi questa confederazione di sette villaggi sui sette colli pare che probabilmente l'etimologia di questo settimonzio derivi sia da septi montes ossia dai monti recintati dai monti circoscritti ma la fonetica chiaramente il suono del numero sette chiaramente nel septi ritorna tranquillamente quindi roma innestata sulla concettualità se vogliamo fondativa del numero sette e la posizione vi dicevo prima legata al tevere assolutamente strategica perché nel corso della sua storia è chiaro che la storia della città di roma è intimamente legata alla dimensione del tevere perché questi villaggi questa confederazione e questi villaggi erano antistanti all'isola tiberina l'isola famosissima del nostro tevere che era un punto di scalo fondamentale dal punto di vista commerciale ma nel concetto di apertura della terraferma grazie al tevere al mediterraneo queste dimensioni chiaramente non avvengono di sviluppo commerciale come è ovvio nella dimensione preistorica se vogliamo del nostro del nostro lazio ma è chiaro che anche per situazioni di scambi commerciali terrestri interni o comunque limitati alla costa queste componenti vanno necessariamente tenute in conservazione tevere concetto come situazione dimensione di accesso al mediterraneo chiaramente questa zona del tevere si trovava a metà strada tra letruria e la il territorio e il territorio campano dove passava una via la cosiddetta via del sale la via salaria che ancora oggi chiaramente ancora oggi chiaramente esiste tramite cui il sale dalle saline di ostia poteva arrivare fino ai monti del dell'appennino quindi una via commerciale l'importanza del sale ovviamente è fondamentale per la conservazione dei cibi e quindi vedete come questo come sempre una posizione di insegnamento sia scelta sia si sia costituita nel tempo come come sempre sempre strategica poi chiaramente la situazione di queste anse del tevere di questa foce nella zona anche dell'isola tiberina erano un approdo sicuro per le navi che appunto si spostavano in questa zona per ragioni commerciali sempre più come possiamo facilmente immaginare sempre più estese questa questa caratteristica fa in modo che la zona del lazium la zona del tevere dell'isola tiberina diventassero sempre sempre più un centro commerciale un punto di passaggio di primo livello accadrà dopo che ovviamente come avevamo visto per gli etruschi quindi sostanzialmente da questo punto della foce del tevere i primi romani intercetteranno nei primordi del loro sviluppo commerciale le rotte greche le rotte fenice le rotte siciliane le rotte commerciali cartaginesi per tutto il mediterraneo è qui il nocciolo da cui partirà poi tutta la grande espansione espansione romana il tema del porto d'altro canto fa già della storia di roma una storia di interscambi di flussi di genti e di culture diverse che proprio nei grandi porti e questa la anche a livello letterario se vogliamo la simbologia di questi porti che raccolgono persone esperienze culture prodotti meccanismi di vita meccanismi urbanistici tecniche di costruzione sono proprio un mondo quando anche noi oggi usiamo l'espressione quel luogo è un porto di mare indica proprio il punto di passaggio dove le varie genti arrivano lasciano prendono si sviluppano e portano in altre situazioni o portano in quella in cui arrivano le loro esperienze le loro le loro culture sostanzialmente diverse questo è più o meno un molto sintetico esordio di quelle che erano le componenti spazio-temporali se vogliamo di sviluppo della civiltà romana civiltà romana che come dicevamo precedentemente ha una fortissima aura leggendaria nei suoi primi momenti come capite anche per gli storici antichi è sempre stato molto difficile andare più indietro si va chiaramente più la situazione è difficile e lo storico Tito Livio che scrisse proprio una monumentale opera agli annali della città di Roma dalla sua fondazione a burbe condita dalla fondazione della città quindi ha un'impostazione se vogliamo abbastanza critica nei confronti di queste origini leggendarie in quanto non è tanto una situazione di critica ma quanto una constatazione del fatto che le origini di ogni civiltà sono ammantate chiaramente dalla leggenda, dal mistero ed è questo forse che crea il suo fascino dice proprio Tito Livio alle antiche età si suole fare questa concessione di rendere più sacri e venerabili i primordi delle città mescogliando gli uomini agli dèi e diciamo che forse ho anche sbagliato a parlare di critica perché proprio anche uno storico scientifico come Tito Livio noi avevamo conosciuto Tucidi de Greco in relazione a questo metodo storiografico più scientifico si fa una concessione nel senso che gli esordi mitici di una civiltà forse sono più ad appannaggio della poesia, della fantasia, dell'epica e della leggenda ma per quello che concerne Roma gli studi archeologici hanno proprio notato come ci siano mescolate appunto, è lo stesso termine che usa Tito Livio, a queste situazioni delle dimensioni di realtà storiche ben attestabili, datate e precise perché chiaramente secondo voi si mitizzavano le origini di una civiltà attenzione che noi non abbiamo quasi mai non ce l'avevamo per i greci e non ce l'abbiamo per i romani uno storico contemporaneo che ha i periodi di fondazione, i periodi di nascita delle civiltà e quindi abbiamo dei documenti, questo è evidente ma la storiografia moderna di Tucci, di Tito Livio e degli storici che pian piano stiamo conoscendo non viene prodotta molto, molto, molto tempo dopo dagli eventi a cui si riferisce e in particolar modo le informazioni romane sulle origini di questa civiltà ci vengono da storici di età imperiale quando Roma è ai suoi massimi livelli territoriali di conquista, territoriali di sviluppo e soprattutto di grado di civiltà e quindi è chiaro che questi storici vogliono mitizzare le origini renderle come se volessero rendere l'impero attuale di Roma nient'altro che un elemento del destino che già nel momento della fondazione era stato appunto predestinato quindi si nobilita si mitizza sia dal punto di vista soprattutto dal punto di vista poetico perché come vi ho già detto abbiamo l'Eneide di Virgilio che si occupa in età imperiale appunto dal punto di vista poetico epico mitico delle origini di questa civiltà e abbiamo anche gli storici che proprio in questi momenti tendono a nobilitare la patria della quale fanno parte e che ha raggiunto un così elevato livello di sviluppo quindi non è il format se così vogliamo chiamarlo anche per la dimensione dei sette colli romani ricordiamolo il palatino il campidoglio l'esquilino il viminale l'aventino il celio e il quirinale anche questa dimensione ai sette colli fa parte di questa commistione anche poetica tra mito e realtà tra leggenda e realtà come vi dicevo prima inoltre parlavamo proprio di format perché l'eroe fondatore allontanato dalla situazione a lui destinata di governo per una serie di complotti e di lotte per il potere che ritorna in un secondo momento sconfigge tra virgolette l'usurpatore e il male e innesta il suo dominio questa è un altro di quei meccanismi tipici dell'abbandono dell'eroe o degli eroi fondatori che ritorneranno riportando la correttezza e la giustizia e con Romolo e Remo lo avete capito un chiaro un chiaro formato un chiaro format che anche ad esempio nella nascita di Mosè e alla liberazione dalla schiavitù dell'Egitto guardate questo eroe che c'è viene allontanato e poi ritorna e ristabilisce l'ordine e anche il tema se vogliamo del fiume il tema dell'acqua ma il tema del fiume o del mare il tema del fiume del mare perché l'acqua va scorre e poi ritorna vedete come questi meccanismi tornano tornano e ritornano inoltre per sancire poi il collegamento fra la civiltà greca fra la civiltà romana e la civiltà cristiana che anche se ci sembrerà strano queste civiltà soprattutto quella greca romana ovviamente ma anche quella romano cristiana manterranno dei punti di contatto se non altro che il loro rapporto sarà un continuo allontanamento ma partito da una situazione chiaramente di vicinanza quindi gli autori antichi lavorando e come ci ha detto Tito Livio concedendo una sorta di mitizzazione nelle parti iniziali storiografiche sono stati in questo frangente avallati e supportati appunto come vi dicevo da delle ricerche archeologiche che hanno certificato che nell'ottavo secolo nella zona dei Sette Colli ci furono degli insediamenti che hanno portato a non considerare assolutamente mitica la data di fondazione di Roma del 21 aprile 753 avanti Cristo anno dal quale i romani contano è l'anno zero se vogliamo della della storia romana appunto queste ricerche hanno permesso chiaramente la data precisa al giorno l'ora al secondo non lo sapremo mai ma è una data assolutamente compatibile con le moderne ricerche archeologiche e di datazione anche scientifica in alcuni in alcuni casi i villaggi sorsi precedentemente sul palatino si unirono in quell'occasione in un'unica comunità che progressivamente assorbì anche gli altri insediamenti sorti sui colli vicini tra la dimensione dei colli ce n'è sempre uno che ha un potere maggiore per antichità per posizione per forza militare per prestigio che si occupa della gestione della confederazione di tutti gli altri e proprio come vi dicevo Roma prende il via da questa situazione ricordiamocelo ancora il 21 aprile del 753 avanti Cristo data dalla quale i romani che i romani considerano i latini considerano il loro anno zero gli annali di Tacito iniziano la vera storia di Roma fuori dalla dimensione mitica proprio da questo da questa data con l'anticipazione appunto delle concessioni leggeremo anche vi leggerò a conclusione della lezione proprio il e vi manderò ovviamente il la parte del testo di Tito Livio che cita questo questo frangente frangente che prende il via dalla 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 storia dei gemelli ovviamente Romolo e Remo che però è anticipata da una situazione io già quando vi parlavo della storia greca vi avevo e le origini della civiltà greca vi avevo parlato delle tre opere epiche fondamentali della nostra antichità greco-romana l'Iliade e l'Odissea afferenti ovviamente a Omero e l'Eneide di Virgilio e ci tengo ancora una volta a farvi percepire di come questi autori e storici romani prendiamo ad esempio Virgilio con l'Eneide tendano a mantenere un collegamento mitico con l'altra civiltà che è stata la civiltà di livello più alto mai apparsa ossia i greci nel senso che l'Eneide parte se vogliamo prende il suo esordio dalla fine dell'Iliade Omerica con la fuga con la fuga di Enea dalla città di Troia e dopo delle sue peripezie e viaggi nel Mediterraneo con il suo approdo appunto sulle coste del Lazio vedete appunto come gli autori tendano a mantenere fra Grecia e Roma noi ne citiamo solo due perché citiamo i pilastri ma anche dai pilastri come l'Iliade di Omero e l'Eneide di Virgilio ci sia la volontà di mantenere questo aggancio Romolo e Remo arrivano dopo una discendenza che parte da Enea che vi ricordo riportiamo alla memoria quella scultura a Villa Borghese meravigliosa del Bernini Enea il padre Anchise e il figlio Ascanio che fuggono da Troia ed è proprio legata ad Enea e al figlio Ascanio gli esordi della fondazione di questi villaggi di queste confederazioni che poi dal punto di vista mitico porteranno alla nascita della civiltà romana Enea sposa Lavinia la figlia di un re latino e fonderà il primo centro urbanisticamente importante della situazione laziale ossia appunto il Lavinio il figlio Ascanio diventerà il fondatore sarà il fondatore e diventerà il primo re del secondo centro fondamentale di questo territorio ossia la città di Alba Longa nella zona ovviamente dei colli alpani ricordiamoci che Ascanio era definito e anche conosciuto come Iulo come Iulio ossia fondatore di quella Gens Iulia a cui appartenevano anche Giulio Cesare e Ottaviano Augusto vedete come anche tutti i personaggi che noi conosciamo dal punto di vista storiografico tendono sempre a voler recuperare la miticità degli origini il prestigio della discendenza è un elemento assolutamente fondamentale e comune a tutte le civiltà del pianeta più la mia civiltà è antica più la Gens più la stirpe a cui appartengo è antica più io sono nobilitato nell'appartenervi chiaramente il concetto di nobilitazione va di pari passo con il il potere una discendente di Enea rea silva rea silva o rea silvia a seconda delle 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 scritture della disposizione delle delle lettere era figlia del re di Albalonga numitore attenzione a questa rea silvia che diventerà una vestale una sacerdotessa poi approfondiremo questo concetto delle delle vestali che si unì con il dio Marte ed ebbe e partorì appunto i due famosissimi gemelli fautori uno solo ovviamente della fondazione di Roma Romolo e Remo quindi vedete le origini mitiche un dio dio Marte dio della guerra che vedete che abbiamo già ovviamente il nome latino non più Ares ovviamente come in Grecia che sceglie una donna e la rende degna di partorire la sua prole i suoi gemelli quindi dalla dimensione bellica rappresentata da Marte abbiamo la nascita di questi due gemelli come sempre nelle lotte di successione al potere nelle lotte di successione per il trono c'è una sorta di antagonista che vuole impedire l'accesso al trono di questi due gemelli di questi due infanti e li vuole eliminare se ne vuole liberare già da subito infatti abbiamo anche in questo caso il fratello del re nomitore Amulio che fa uccidere nonostante fosse diventata socerdotessa fa uccidere Rea Silvia e abbandona sul tevere in una cesta di vimini questi due gemelli e si instaura spodesta nomitore il fratello e arriva sul trono attenzione a questo format del fratello che usurpa che poi anche a livello letterario anche a livello voglio dire non solo storico è sempre sempre attivo e funzionale e fa uccidere la madre e abbandona i figli alla corrente del tevere che ci dirà poi Tito Livio il tevere fortunatamente straripa poi si ritira sta di fatto che questi bambini nel tevere con questo ritiro delle acque questa situazione in secca vengono si salvano sostanzialmente e una lupa sentendo i loro vagiti accorre e lì allatta entra in gioco il tema chiaramente della lupa che noi conosciamo in quella statua bronzia non chiaramente di epoca romana meno che mai contemporanea a questi eventi ma quella statua in cui la lupa capitolina allatta i due gemelli la datazione di quella statua poi è stata appunto datata in epoca medievale e i due bambini vennero raggiunti nel nel 400 ma ciò non toglie che sia diventato un simbolo assolutamente straordinario della civiltà romana quindi tema della fiera tema della bestia lo vedremo anche dopo che allatta il latte come elemento primordiale che garantisce il nutrimento e dà la vita abbiamo anche in questo caso poi vi manderò anche un piccolo prospetto iconografico con ad esempio per dirvi di Enea abbiamo la statua che conoscete benissimo di Enea anche Isiascanio di Bernini un dipinto molto bello di Barocci della fine del 500 e relativamente all'allattamento della lupa vi mando un dipinto molto bello bellissimo di Rubens che traduce appieno questa scena di allattamento meravigliosa e la comparsa di un pastore il guardiano C. di Ratito Livio degli armenti e degli allevamenti del re Faustolo che prende questi due gemelli che sono stati la cui sopravvivenza è stata appunto permessa dalla lupa che diventerà il simbolo della città di Roma simbologia del lupo meravigliosa di aggressività ma anche di tutela e di protezione dei propri figli questo pastore Faustolo stiamo parlando di civiltà di pastori prende questi due gemelli e li alleva come se fossero figli come se fossero figli suoi altro format più e più volte riprodotto nelle dimensioni mitiche di un elemento esterno di un personaggio esterno di solito di umili origini che alleva la prole proveniente da una dimensione divina e mitica o con un destino già segnato i due ragazzi due gemelli si vendicano del di Amulio l'usurpatore e traditore e restituiscono il trono al nonno all'anziano nomitore che riprende le redini del governo viene restaurato il cosiddetto buon governo i due ragazzi decidono quindi di dopo la restaurazione della correttezza in un certo qual modo decidono di instaurare e di fondare una città nel luogo in cui loro erano stati abbandonati quindi c'è questa decisione su chi fra i due dovesse innanzitutto fondare una città darle il nome e instaurare poi una discendenza questo è un meccanismo abbastanza canonico ma chi deve regnare tra i due gemelli dal momento che non c'è una componente legata all'età non c'è un primogenito tra i due gemelli e quindi lo leggeremo da Tito Livio questi due gemelli decidono di lasciare decidere agli dei ci affideremo a Tito Livio come vi ho appena detto per capire la situazione sta di fatto che da questo confronto da questo contrasto da questo appunto dimensione di confronto vince Romolo ovviamente come sappiamo e il nome Roma deriva proprio dal nome Romolo che traccia un solco che andrà poi a riprodurre che andrà poi a sancire sigillare e confermare quelle che saranno le mura della sua città della sua Roma e la leggenda narra che Remo mosso dall'invidia mosso da una volontà di potere oltrepassò questo solco e Romolo fu costretto ad ucciderlo quindi Remo viene ucciso e segniamoci ragazzi mi raccomando il tema del fratricidio che è un altro tema fondamentale e ricorrente pensiamo ad esempio a Caino e Abele nella dimensione nella dimensione biblica quindi tema del fratricidio che si innesta al precedente come vi ho detto lo vedremo benissimo dalla tela di Rubens al tema della fiera al tema della bestia che allatta una creatura non sua ricordiamoci che io vi avevo già parlato e ci viene in aiuto un'altra meravigliosa scultura di Bernini da questo punto di vista che poi che vi avevo già mandato se non sbaglio quando parlavamo dei satiri parlavamo di queste situazioni dei riti della religione popolare bassa se vogliamo dirla così dionisiaca della scultura di Bernini meravigliosa Giove e la capra maltea Giove che viene appunto allattato da una capra il tema del latte il tema delle bestie da allevamento vedete come il latte torni sempre nelle questioni legate al nutrimento alla maternità primordiale sono proprio dei format che ormai un po' e spero non solo un po' li conosciamo molto molto bene e anche in questo caso una perfetta simbiosi di rapporto tra Grecia e Roma sancita a livello letterario lo ricordiamo nuovamente dal rapporto strettissimo e sostanzialmente di continuum fra l'Odisse fra l'Iliade scusate la fuga di Enea da Troia in fiamme e l'Eneide virgiliana che aggancia gli eventi e le situazioni proprio da quel punto e permette appunto un continuum fra le due civiltà Grecia appunto e Roma ecco vi faccio solo notare a livello poi di letteratura visto che avevo citato precedentemente il tema della fiera che allatta una creatura non sua lo abbiamo anche con il famosissimo Mowgli con il famosissimo Cucciolo Duomo che viene passa la sua vita stiamo parlando chiaramente del libro della giunga di Kipling che viene adottato se così vogliamo dire viene accolto nel branco dei lupi e diventa appunto non un cucciolo di lupo ma un cucciolo d'uomo e passa la sua primordiale se non altro fase della vita in questa situazione il Tarzan delle scimmie per intenderci rimaniamo nella letteratura britannica e coloniale se vogliamo della fine dell'Ottocento del secondo ottocento sfruttano ancora questo format mitico ve ne cito solo alcune per le più famose legate a dei personaggi che hanno chiaramente fatto parte dell'infanzia di tutti noi vedete proprio come questi temi presenti nel mito siano poi frequentati anche a duemila erotti anni duemila e cinquecento anni di distanza vedete come tutti gli scrittori tutti gli intellettuali siano sempre in un qualche modo interessatissimi ai primordi alle origini delle delle civiltà chiudiamo come vi dicevo con la dimensione di Tito Livio vi ho mandato una scheda un pdf molto molto dinamico molto molto veloce di due paginette in cui abbiamo nella prima parte il tema riproposto così lo ritrovate della ricerca di un'origine straordinaria la ricerca nel senso di voler andare a cercare poi con tutti i problemi legati al plagio e alle informazioni non sempre corrette che si hanno in questi frangenti proprio per connettere la storia rimodellarla di modo che si assesti pienamente sulla leggenda velocissimamente avete il racconto delle neide il poema di Enea di cui vi ho già detto la immagine bellissima della lupa capitolina che ovviamente avete anche sul vostro libro ci mancherebbe e poi nella seconda pagina la questione legata a Tito Livio con quella scultura le due immagini della scultura del Tevere nella piazza del Campidoglio meravigliosa ossia l'immagine del Tevere gigantesca molto grande con nella sua parte in basso a sinistra lo vedete qui i due gemelli Romolo e Remo e la lupa che si sta occupando li sta accudendo la simbologia di questa statua meravigliosa del Tevere dell'acqua il tema anche quasi del fango perché stiamo parlando di una cesta di Vimini che è andata in secca nella fanghiglia quindi ritorna nuovamente il tema del limo della sponda fangosa e questi due gemelli rappresentati più piccoli nella parte come vi dicevo qui in basso a sinistra che vedete ma per sancire il fatto che è il fiume è la divinità del fiume che è riproposta anche nel quadro di Rubens che ha permesso la vita della città Romolo e Remo a livello di destino sono stati salvati dall'acqua sono stati salvati dal dal fiume Tevere quindi chiudiamo vi leggo questo brano di Tito Livio ragazzi ve lo leggo poi se ci fosse qualche qualche problema ne riparliamo chiaramente ma direi che abbiamo già commentato precedentemente questo brano comunque se ci fosse qualcosa ci mancherebbe altro ci dice Livio negli annali a burbe condita Ascanio senza dubbio figlio di Enea essendo molto cresciuta la popolazione di Lavinio lasciò alla madre la città e ne fondò per sé un'altra ai piedi del monte Albano Ascanio ovviamente figlio di Enea senza dubbio figlio di Enea ci dice Tito Livio la chiamò Alba Longa attraverso vari discendenti il regno pervenne a Proca che a sua volta fu padre di Numitore e di Amulio Numitore come figlio maggiore ebbe il regno ma Amulio cacciò il fratello e si impadronì del potere tema tipico dell'usurpazione e non si accontentò di questa scelleratezza uccise la discendenza maschile del fratello e obbligò la figlia di lui la figlia di Numitore Rea Silvia a farsi vestale a farsi sacerdotessa di modo da non interferire più nelle questioni dinastiche di discendenza ma Rea Silvia venne amata dal dio Marte e dette alla luce due figli gemelli Romolo e Remo tema sempre dei gemelli mi sono dimenticato di dirlo ma chiaramente è un tema fondamentale ne avevamo già parlato negli dei negli uomini riuscirono però a salvarla dalla crudeltà dello zio la sacerdotessa fu gettata in carcere i neonati per ordine del re avrebbero dovuto essere abbandonati alla corrente del fiume che fortunatamente straripò i servitori allora esposero i neonati nella pozza più vicina narra la tradizione che le acque narra la tradizione guardate qui Tito Livio quello che vi avevo detto prima le concessioni che vengono fatte nei miti primordiali al metodo storiografico narra la tradizione che le acque ristagnando lasciarono in secco il cestello in cui i bambini erano stati deposti e che una lupa accorse ai loro vagiti il guardiano degli armenti del re il cui nome si tramanda fosse Faustolo la trovò che li allattava con grande mansuetudine allora indice di un evento chiaramente eccezionale perché una lupa affamata che deve procurare il cibo per sé per i suoi cuccioli trova due neonati indifesi proverbialmente scusate se dissacro un po' la situazione trova carne fresca se li accudisce vuol dire che c'è un segno divino c'è un disegno c'è un destino preparato a questo li allattava appunto con grande mansuetudine allora raccolse i due fanciullini Faustolo e li diede da allattare alla propria moglie la Renzia i due gemelli venuti a conoscenza delle loro vicende e delle malefatte del re Amulio diedero l'assalto alla reggia e lo uccisero tema della vendetta per la giustizia la loro azione fu approvata dai pastori che riconobbero a Numitore il titolo di re restaurazione del potere corretto del buon governo passato a Numitore lo stato albano Romolo e Remolo vollero fondare una città nel luogo in cui erano stati abbandonati allevati ma erano gemelli e in quanto all'età non vi erano diritti di precedenza non c'era un primo genito affinché gli dei protettori di quei luoghi indicassero con segni augurali chi dei due dovesse dare il nome alla nuova città e chi regnarvi per prendere gli auspici Romolo salì sul monte Palatino Remo sul Laventino ed ecco che a Remo per primo apparvero sei a Voltoi il doppio invece ma dopo a Romolo le rispettive schiere salutavano re l'uno e l'altro l'uno forte della precedenza Remo di aver visto per primo i segni augurali l'altro del maggior numero di uccelli da qui il violento litigio che vide Remo soccombere quindi Livio ci ha dato un'altra immagine perfettamente canonica con i meccanismi della religione antica e dei segni augurali di cui sappiamo chiaramente tutto perché abbiamo studiato gli etruschi abbiamo studiato appunto gli auguri che interpretavano la volontà degli dèi la divinazione attraverso il volo degli uccelli vedete come il tema del contrasto Remo ne ha visti prima ma di meno Romolo ne ha visti di più il doppio ma dopo altri qui lo storico riferisce delle situazioni legate alle fonti altri dicono che Remo per deridere il fratello saltò al di là del solco scavato per le nuove mura e che Romolo fuori di sé per l'oltraggio tema del solco di cui vi ho parlato poco fa lo uccise inveendo con queste parole così muoia chiunque altro osi varcare le mie mura in questo modo Romolo ebbe egli solo il potere la città fondata prese da lui il nome e si chiamò ovviamente come sappiamo Roma quindi io chiuderei qui ragazzi con le parole di Livio che sono assolutamente chiarificatrici di ogni situazione possibile e ci hanno dato e ci hanno permesso di ricompattare tutto il discorso mitico sulla fondazione di questa di questa città destinata a dominare tutto il mondo conosciuto per molto molto tempo e plasmare in sostanza la cultura la cultura occidentale dopo l'opera chiaramente dei dei greci ecco io ragazzi avrei finito vi arriva tutto il materiale mi raccomando lo sapete che io tengo sempre moltissimo anche alla parte iconografica quindi riassestiamo insieme a questo pdf che vi mando anche l'iconografia di Bernini di Barocci di Rubens e quant'altro sarebbe bello se poi voi cercaste qualche dipinto qualche situazione artistica fedele a questa parte del programma io ho finito signori grazie a tutti buon lavoro buono studio buona giornata e ci aggiorniamo alla prossima lezione chiaramente sincronica partecipata un abbraccio ragazzi grazie mille grazie mille